ancora Benza con il destro, potrebbe crossare, lo fa, più un tiro che un cross il suo Mangalà, ci prova da fuori, il palo, che occasione Luque Bacchio va via, prova a farlo a Pestka, ancora Luque Bacchio, il palone per Scravers Scravers che prova a farsi largo, Scravers, la parata di Grabara palone basso, la rete, l'1-0, lei a Isecca, il vantaggio era nell'aria, sedicesimo minuto è un gran bel belgio in questa fase di partita, raccoglie il frutto della pressione degli ultimi minuti assegno con il suo centravanti, 1-0 è importantissimo saper superare l'uomo, il dribbling è un fondamentale tecnico l'inserimento di Scravers, Scravers va via, Scravers in area di rigore, Scravers tutto benissimo non la finalizzazione, ma questa è una giocata da campione una grandissima giocata perché poi la riceve Szymanski, ci prova con il sinistro, il pareggio il pareggio della Polonia, da nulla l'1-1, firmato Szymon, credo Szyrkowski Szyrkowski, Szyrkowski per il pareggio della Polonia con, direi, una fetta di responsabilità da parte di Jakas che ha impiegato una vita a scendere Einen, Luquebacchio, Luquebacchio, il diagonale, palla fuori non di molto 36 sul cronometro, calcia Scimanski verso la porta palla non di molto lontana Jagiewo allarga verso Pestka, il pallone basso per Scimanski, poi la conclusione e questa volta è bravo, Jakers su Kovnazki Kovnazki e fila il colpo di testa la palla in rete, il vantaggio della Polonia con Bielic settimo minuto della ripresa ancora una volta difesa del Belgio rivedibile assolutamente sì, una difesa del Belgio che rimane a zona in 5 del Belgio in area di rigore traiettoria prolungata e poi Cobbaut una sassata, palla fuori va tutto bene Luquebacchio parte il cross Scravers ai 16 metri con il sinistro Shurkowski ancora che prova ad andare via Cobbaut Shurkowski la palla davanti alla porta arriva Scimanski 3 a 1 Belgio al 35esimo al 34esimo della ripresa 3 a 1 gol pesantissimo di Scimanski quando si dice una squadra sorgnona è la Polonia squadra difficile da affrontare che qui rischia qualcosa infatti regala palla a Scravers 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 sempre Luquebacchio colpo di testa alla rete accorcia le distanze con Coles il Belgio beh che finale sì ancora una volta determinanti episodi le palle inattive è arrivato Coles lasciato Amusu va a Mikalak Amusu punta a Mikalak arriva al limite dell'area il suo cross è un tiro ci arriva Gravara mette in calcio d'angolo mi è sembrata una parata applausi